Nel corso degli ultimi decenni ci siamo potuti avvicinare, dialogando in modo efficace e fruttuoso. Abbiamo approfondito la nostra conoscenza reciproca e intensificato i nostri vincoli di amicizia. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai rappresentanti della Conferenza dei Rabbini Europei, del Consiglio Rabbinico d'America e della Commissione del Gran Rabbinato d'Israele, in dialogo con la Commissione per i Rapporti Religiosi con l'Ebraismo della Santa Sede, e ricevuti in udienza. Un cammino fecondo inaugurato con la dichiarazione conciliare Nostra Etate, magna carta del dialogo col mondo ebraico e rinsaldato dal documento consegnato oggi al Pontefice fra Gerusalemme e Roma. La dichiarazione fra Gerusalemme e Roma non nasconde comunque le differenze teologiche delle nostre tradizioni di fede. Tuttavia esprime la ferma volontà di collaborare più strettamente oggi e in futuro. Il vostro documento si rivolge ai cattolici, cambiandoli partner, stretti aliati, amici e fratelli della ricerca comune di un mondo migliore che possa godere pace, giustizia sociale e sicurezza.